Bene, questo è un blog Il mio primo blog Insomma, partiamo dal succo Voi che ne pensate di Pokémon, del mondo di Pokémon, delle anime? Beh, ognuno su questo argomento ha proprio parere, no? Pokémon è stata una delle anime, si può dire, più importanti, più belle Nonostante che quest'anime, che questo tipo di anime non mi riguarda l'inventore Purtroppo adesso è decaduto Purtroppo è decaduto, sì Da poco Anche se da tanti anni Esiste quest'anime, questo gioco E sto portando animato Resta sempre bellissimo Volevo fare questo blog anche per chiedervi la vostra opinione Qua non finisco più se continuo a parlare di Pokémon Ci sono tantissime cose da dire Appunto, ditemi la vostra opinione o con un commentino O con un video risposta Insomma, fate quello che vi pare Ehm, penso che uno di noi ha avuto un passato con questo, quest'anime Ehm Penso appunto che Che poi Sarà, è stato e sarà l'anime più bello che esiste Non so come esprimere il mio concetto Però Ehm Pokémon Ehm Ehm Una serie troppo bella Ehm Cosa ne pensate voi? Ehm Non ho detto tutto sicuramente Ehm Basta che scriviate un commento Con qualsiasi video Risposta E fatemi sapere Ehm Ehm Come già sapete O non lo sapete perché non sono molto famosa su YouTube Io ho già fatto Ho già fatto tre parti della mia Della mia prima guida La guida a Pomo Smeraldo Ehm Per chi mi interessasse Ehm Insomma Mi sto caricando Ehm Niente Ehm Cosa ne pensate voi?